In questo numero del Tg Università, a Palermo Mezzola inaugura il nuovo anno accademico. Fondazione Intesa San Paolo premia dottorati e tesi sull'inclusione. Autoelettrica e futuro green al centro delle tesi premiate da Unrae. In questo momento non posso fare a meno di pensare a Giulia Cecchettin, una studentessa come voi, una giovane donna brillante, la cui vita è stata stroncata nel più brutale dei modi. Nessuna parola di conforto potrà mai riportarla indietro. Dobbiamo fare di più per le donne. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, ha voluto aprire così, con il ricordo di Giulia Cecchettin, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università di Palermo. Commozione nell'Aula Magna dell'Ateneo Siciliano, gremita di studenti, dove Mezzola ha parlato di Europa come un progetto che da sempre guarda al futuro. Ha dato alle nuove generazioni la possibilità di viaggiare, studiare, lavorare, fare ricerca, creare imprese in un grande spazio di libertà. Grazie ai programmi come Next Generation EU, Erasmus+, Erasmus per i giovani imprenditori, la Garanzia Giovani, Orizzonte Europa, InvestEU, il Fondo Sociale, i fondi regionali e quelli per lo sviluppo rurale. Stiamo dando ai giovani del sud Italia l'opportunità di far valere i loro talenti e costruirsi il vostro futuro. La presenza di Mezzola, che bissa quella di Ursula von der Leyen in occasione del Via all'anno accademico 2022-2023, conferma per il Rettore Massimo Midiri l'idea di un chiaro interesse dell'Europa per l'Università di Palermo. Questa è un'occasione importantissima perché il messaggio che noi vogliamo dare è forte e chiaro, è quello di un Ateneo mediterraneo che però ha una chiara proiezione europea e che vuole diventare hub al centro del Mediterraneo per tutti i paesi riveraschi, dalla Grecia, al Portogallo, a Nordafrica, permettendo quindi questa contaminazione dei saperi, contaminazione anche di popolazioni, verso una proiezione europea. Tutto questo è dimostrato nei fatti anche dall'interesse che ha la Commissione attraverso gli organi effettori, che sono quelli che poi decidono i grandi stanziamenti di ricerca e se questo andrà avanti, direttamente la Sicilia e Palermo riceveranno una quantità di milioni importante che cambierà il volto, non soltanto della ricerca ma anche degli stili di vita di questa città. Inclusione e diritto allo studio, due temi al centro dell'azione della Fondazione Intesa San Paolo, ente filantropico che alle Gallerie d'Italia a Milano, in un evento dedicato alle università, ha consegnato le borse di studio per i progetti di dottorato in discipline umanistiche. Questa settima edizione, che ha confermato l'ammontare complessivo di 375 mila euro, ha premiato le università di Napoli-Partenope, Cassino e Lazio Meridionale, Pavia, Molise e Sassari. Ha segnati inoltre quattro premi per tesi di laurea magistrale di ricerca sperimentale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. Claudio Angelo Graziano, presidente della Fondazione Intesa San Paolo, ente filantropico. Quest'evento si inserisce nelle iniziative della Fondazione, che ormai è 15 anni che opera, con erogazioni di circa 32 milioni in questi anni, di cui 10 milioni per il diritto allo studio. Perché uno dei temi forti della Fondazione è proprio l'attenzione ai giovani, anche dei giovani che, voglio dire, hanno meno possibilità per consentirgli di completare il percorso di studi e in qualche modo anche di favorire poi l'inserimento nel mondo del lavoro. Tra i dottorati premiati quello su Social Network e Cyberbullismo di Francesca Panaio dell'Università di Napoli-Partenope. L'importanza innanzitutto risiede nella possibilità di proseguire gli studi e quelli che sono i nostri interessi accademici. E poi, nel mio caso, il mio progetto di ricerca è quello di restituire un'analisi narratologica, ma focalizzata sulla declinazione del cyberbullismo attraverso la letteratura. Dal car sharing al futuro della mobilità elettrica, passando per le strategie di marketing per conoscere il grado di apprezzamento degli utenti. Sono alcuni dei temi al centro delle lauree premiate da Unrai, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, che ha assegnato le borse di studio per la ventitresima edizione del premio riservato a tesi sull'automotive. Stavolta sono stati premiati i lavori di cinque neolaureati, due provenienti dalla Sapienza di Roma, due dalle Facoltà di Economia e Marketing dell'Università di Torino e della LUIS di Roma, il quinto dalla Statale di Milano. In quattro si sono laureati con il massimo dei voti, tre di questi hanno raggiunto anche la lode. Nella prossima edizione verranno selezionate le tesi discusse dal 1 ottobre 2023 al 31 luglio 2024, per le migliori anche con un eventuale stage lavorativo di sei mesi in una delle case automobilistiche associate all'Unrai. Vogliamo sostenere e far crescere uno dei settori che ha contribuito allo sviluppo industriale del Paese, ha ricordato il Presidente Michele Crisci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.